Vigili del fuoco stamattina ancora in azione per le fiamme che hanno letteralmente divorato l'appartamento al quarto e ultimo piano di questa palazzina di Viagozzi, laterale di Via Leardi a Mestre, in rogo nella notte appena trascorsa poco prima delle 4 del mattino per cause al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Oggi ancora transennata l'area dove nella notte tutto lo stabile con le dieci famiglie che ci vivono è stato fatto evacuare a scopo cautelativo. Dopo che gli occupanti dell'appartamento andati in fiamme, cioè il proprietario insieme a tre ospiti, fortunatamente sono riusciti a mettersi in salvo perché svegliati di soprassalto dal fumo e del crepitio dell'incendio proveniente da una stanza della casa. Con l'appartamento andato completamente distrutto, danni anche a quello sottostante. I vigili del fuoco arrivati con due autopompe, un autobot, un'autoscala e 16 operatori sul posto con l'ambulanza del Suem 118 e gli agenti della Polizia di Stato.